amici sportivi tifosi del bari ben ritrovati all'appuntamento col bianco e rosso tv sport facciamo un po l'analisi delle prospettive del bari ma non solo perché con l'ospite di oggi possiamo parlare di calcio a 360 gradi perché con noi l'ex bianco rosso attualmente commentatore per le reti mediaset antonio di gennaio ciao antonio ben ritrovato è difficile trovarti a pari in questo periodo perché insomma tra campionato champions con varie trasmissioni qual è lo stato di salute del calcio italiano in questo momento visto che tu come dire hai un monitoraggio costante della situazione ma a livello del campionato italiano mi sembra sia con questo diciamo così ora c'è questo duello e juve napoli però fino a due mesi fa c'era una molta molta insicurezza per chi potesse vincere il campionato c'era squadre importanti l'inter fino a un certo punto anche la stessa fiorentina che sono sempre lì però credo che non potranno più lottare per lo scudetto e c'era molta diciamo così per noi che facciamo questo lavoro anche per te che segui ovviamente da giornalista e credo che c'era molto interesse questo equilibrio che magari si era creato poi questo duello credo anche giusto perché sono le squadre che giocano il miglior calcio anche la fiorentina si è calata un po' però sta giocando molto bene che sono juventus e napoli quindi a livello europeo ora c'è questa diciamo di qualità riscoperta per quanto riguarda le nostre squadre guardando per 60 70 minuti la partita tra juventus e bayern monaco a un certo punto mi sono detto ma la juventus che pure in italia da l'idea a volte di dominare insomma poi per 60 minuti non vede parla col bayern che vuol dire che gli altri ci sono alcune società irraggiungibili a livello di qualità di gioco di organico di organizzazione perché ieri a un certo punto davvero si è avuta la sensazione netta di una sfida impari no tra juventus e bayern monaco poi il calcio è bello perché c'è l'imponderabilità lo dice spesso gianni antonucci negli ultimi l'ultima mezz'ora cambia un po la partita ma si sente parlare anche di fatturati no rispetto alle grandi squadre normale che noi non possiamo nel fatturare come diciamo bayern barcellona real madrid per il san germain celsi bayern di monaco ovviamente siamo un tantino inferiori rispetto insomma agli anni 90 dove ovviamente potevamo dettare leggi dove potevano arrivare anche grandi campioni per quanto riguarda ieri sera è la dimostrazione che il bayern è un allenatore ovviamente di grandi livello che da una sua mentalità una filosofia si è visto perché ieri hanno giocato per un'ora ma soprattutto il primo tempo poi andare a vedere i dati le statistiche poi possono contare il giusto però avere 75 per cento di possesso palla il 90 per cento di passaggi utili questa dimostrazione di grande capacità proprio di inculcare questa filosofia che ha guardi ora poi si parla dei moduli di giocatori credo che però ha dato un'impronta importante però anche lui ha detto che ovviamente ha incontrato la juventus che ha vinto quattro scudetti di seguito può darsi lo vinca anche quest'anno il quinto anno scorso è arrivata in finale champions league e poteva essere giocata fino alla fine fino al 21 della fine contro il barcelone sappiamo la sua forza ieri ha dimostrazione che la juventus nel suo dna qualcosa di diverso alle altre questo nonostante ecco i diciamo qualche situazione episodica che ovviamente l'abbia svantaggiata stavo sentendo un collega xavier jacobelli in radio e stava dicendo che nell'ultimo periodo non soltanto la juve ma roma napoli lazio e la stessa fiorentina in queste sei partite sono state danneggiate a livello arbitrale quindi a volte i nostri arbitri vengono pure colline il segnatore esatto quindi anche arbitri di un certo livello ieri ovviamente è stata abbastanza clamorosa però viene in secondo piano nel senso che c'è stato un recupero fantastico questo vuol dire che la juventus ha queste armi sa che può soffrire e credo anche questo questa ultima mezz'ora se la potrà giocare bene anche all'allianz arena dove ovviamente il clima è di un di un livello stratosferico però questi hanno dalla loro nonostante abbiano cambiato tanto rispetto agli ultimi anni però della juve hanno sempre qualcosa di carattere la voglia di vincere allora adesso il bari perché ovviamente beh chiaro di questo vogliamo parlare soprattutto nel bianco rosso dei bisport cominciamo con una telefonata pronto pronto eccoci ciao salve sono franco monno da toritto ciao franco ciao le volevo solo dire una cosa saluta all'ospite di tutto rimpiangeremo nicola perché nicola faceva il brutto gioco ma i punti c'erano mentre con l'attuale allenatore c'è il bel gioco diciamo bel gioco cioè per me non è nemmeno bel gioco però i punti non si vedono solo questo le volevo dire grazie infatti l'allenatore che venne qui a bari disse che nicola è uno dei migliori allenatori grazie 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 per il tuo intervento per intanto facciamo un in bocca al lupo a campione che ieri a tempo di record dando anche un segnale forte alla squadra perché io un po su repubblica ho giocato come dire con il problema che ha avuto ma per fare un complimento dicendo che ha gettato il cuore oltre l'ostacolo ma è il caso di dirlo perché davvero in sei giorni è passato dal letto dalla paura dal letto di un ospedale diciamo comunque un mini intervento al campo di allenamenti ieri mattina uscire all'ospedale ieri pomeriggio era già da allenare la squadra tanto di cappello sì anche perché credo che sia il problema che ha avuto è recidivo la voglia mi sembra nei dieci anni dieci anni fa andrò proprio a lanciano guarda caso lanciano dove tornerà guarda un po gli incroci strani perché sabato a lanciano si gioca esatto quindi credo sia stato veramente da punto di vista anche un messaggio forse no alla squadra tutto l'ambiente che ovviamente non si molla nulla anche se ovviamente avrà avuto il benestare dei medici perché sono cose ovviamente a cui non si deve scherzare poi avevo visto il mio amico giacobino di cara che ovviamente lui era giovane quando fece l'ultimo anno a bari lui arrivò ed era un ragazzo molto intelligente molto attento molto diciamo anche riflessivo però credo che magari l'avrà chiamato perché allenare da solo andare in panchina magari ha bisogno del suo numero uno credo sia magari anche ben augurante per la partita di sabato dove credo che nonostante tutto quello che si può dire i moduli manca quello manca quell'altro la prima cosa da fare non parlare più secondo me di promozione diretta ma pensare a queste cinque partite dove la per magari per poi riparlarne tra cinque partite e dovranno secondo me fare un filotto di vittorie poi come vengono vengono credo che a questo punto diciamo sì magari pensare più al concreto perché poi come diceva l'amico adesso al telefono e poi i numeri purtroppo nel calcio contano è normale che a volte ho visto fare veramente delle buone partite delle mole di gioco anche interessante però poi ma se banchi di equilibrio se concedi alla lunga non vengono i punti poi sappiamo che qua è fondamentale questa questa ricerca della serie a e magari che possa venire diretta è difficile però con i play off quindi la continuità in serie b è il diciamo il primo problema e quindi un filotto di partite è fondamentale anche perché mi ricordo la famosa remontata non so se magari anche tutti mi sembra partire dal 5 6 di marzo quindi siamo nei tempi e quindi nel calcio ci può stare di tutto l'abbiamo visto anche ieri sera tornando alla partita nel calcio basta avere anche molto carattere certo gli equilibri ognuno ovviamente deve fare il suo e a livello poi tattico ognuno deve giocare nel suo ruolo c'è un'altra telefonata pronto pronto dovremmo avere un amico in linea non sento più nulla allora andiamo in pausa pubblicitaria detto una cosa sulla quale però voglio soffermarmi ognuno deve giocare nel suo ruolo è una frase che ti ha insegnato Bagnoli il tuo vecchio allenatore di Verona in pubblicità poi diciamo cerchiamo di esprimere il concetto sia in fondo Eccoci insieme col Bianchi e Rosso TV Sport e con il nostro ospite Antonio Di Gennaro 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta ci avevamo lasciati con un concetto che vi ha espresso vorrei che entrasse un po' più nel dettaglio quando parli di giocatori fuori ruolo che ti sembra in questo momento utilizzato così nel Bari? No perché come dicevi Staviceto il mio ex allenatore mi ci diceva sempre ma gli schemi ma gli schemi vengono da soli ognuno deve giocare nel suo ruolo ma vedo un po' di giocatori adattati lo stesso Valiani in cabina di regia come davanti a difesa magari si adatta però non credo sia il suo ruolo lui è nato come esterno quando era più giovane poi si è sperimentato come centrocampista e l'ha fatto molto bene qui a Bari perché l'abbiamo visto è quello che è andato più vicino al Goni ha fatti mi ricordo anche quella col Pescara all'andata al San Nicola ebbe due occasioni dove Fiorillo fu molto bravo e lui anche un po' poteva fare gol. Iachimonski terzino basso ovviamente lui è più esterno offensivo quindi però su valutazione che il tecnico magari soprattutto a livello difensivo visto che magari ha perso sapere. Anche in avanti ad esempio Sansone esterno offensivo lui è una seconda punta. le vere sono ovviamente Maniero, lo stesso Puskas e poi c'era Petropoulos ma credo sia stato messo fuori rosa. Quindi sono valutazioni che ovviamente io le dico senza magari valutare poi il lavoro di Camplone che sicuramente avrà i suoi buoni motivi nel senso che deve individuare lui vuole sicuramente a metà campo gente con gamba, gente diciamo dinamica però credo che in questo senso magari qualcuno può essere adattato, dicevo prima a livello difensivo perché ha perso Sabelli e Gemiti non è mai a posto, va bene il terzino sinistro forse si soccò, però ecco sono valutazioni che deve fare bene anche perché poi quando un giocatore magari è un po' adattato magari non può rendere magari al 100% però insomma credo che in questo lui lo vedrà tutti i giorni perché questo 4-3-3 diciamo così visto anche a livello offensivo, l'abbiamo detto più volte, De Luca e Rosina quando fanno le cose belle Rosina è quando si accentra e De Luca lo stesso perché ha queste capacità di giocare quasi da seconda punta. 4-3-3 l'unica vero esterno vero è Boateng, il resto sono esterni un po' adattati. Intanto qui abbiamo le immagini dell'arrivo allo stadio di Camplone ieri ovviamente i tifosi lo hanno coccolato, c'erano una cinquantina di tifosi, non tanti ma come dire lo hanno coperto di affetto e qui ecco le immagini. Io credo che la determinazione che insomma fa vedere tornando ovviamente come dicevo prima con tutti lì ovviamente avranno avuto il benestare dei medici però questa sua determinazione questa sua voglia può essere veramente qui vediamo anche Giovanni che anche lui di determinazione sarebbe da vendere, è importante proprio per i giocatori, deve essere un messaggio perché adesso si parla tanto però ecco il secondo tempo contro Latina ha fatto fare non un passo indietro secondo me molti di più perché dal punto di vista della mentalità sarà visto diciamo non in maniera continua però in alcune circostanze è una squadra che potesse imporre il gioco e poteva ripartire molto bene, ora verrà il difficile perché partite come Latina, già fatta, Lanciano, Ternana, Entella, lo stesso Provercelli sono squadre che magari si mettono tutte e dieci sotto palla si dice in gergo, dietro la linea della palla quindi diventa ancora più difficile che le dei vinci, vinci vuole molta calma, molta attenzione grande intensità e soprattutto nella fase di non possesso cercare di mantenere gli equilibri di non concedere perché sappiamo che in B poi insomma anche le squadre diciamo minori ti possono creare problemi e quindi poi per questo dico magari vincere anche non giocando a grandi livelli, io sono per il bel calcio perché migliori i giocatori e vengono i risultati ma in questo momento conto ovviamente trovare un assetto giusto, lavorare su questo giocatori funzionali perché non è che c'è il turnover, giochi una volta, parti ora in settimana e quindi arrivare a fare questa serie positiva perché è inutile parlare una domenica, un sabato sì, un sabato no, la situazione è questa ma sono mancati dei punti e quindi per sperare e per riparlare di una certa classifica o di una problematica secondo me sì. C'è una telefonata, pronto? Pronto? Eccoci qua, ciao. Pronto, buonasera, volevo salutare Enzo e soprattutto Di Gennaro, volevo dire due cose essenziali, la prima è secondo me il Bevi ha sbagliato anche la campagna acquisti di gennaio perché non ha comprato un attaccante, non dimentichiamo che il Bevi è una media di un gol a partita per una squadra che deve arrivare in Serie A, ovviamente l'attacco è molto basso e poi secondo un difensore che ci voleva e siccome contano i numeri, ho visto un po' i numeri e quelli del Bevi sono deprimenti considerando il numero di partite, partite come Latina, come Entella non si vincono se non si segna e il Bevi non segna, questa è poi discussione. Grazie, grazie. Seconda cosa, no, volevo, seconda domanda, io ho notato, ho visto tutte le partite del Bevi anche televisivamente allo stadio, mi sono risolto che gli arbitri hanno un atteggiamento non corretto nei confronti del Bevi, ammoniscono spesso i giocatori dopo pochi minuti, non ci danno dei falli, non vorrei che questo fosse legato all'attività precedente di Paparetta, ecco vorrei un vostro parere, grazie e buona serata. Grazie per il tuo intervento, beh, diciamo, se fosse vera la seconda cosa che hai detto sarebbe grave perché un arbitro non può essere condizionato dal fatto che un ex collega ora sia un presidente di una squadra di calcio e quindi, come dire, non è equanime nel giudizio, non posso credere a questo, insomma, però, come dire, ascolto quello che tu mi dici, insomma, poi io sulla storia che gli arbitri abbiano un atteggiamento con una squadra piuttosto che con l'altra, dico che se andiamo in tutte le città d'Italia, mi avviso, tutti in questo momento direbbero la stessa cosa, cioè deve essere danneggiati dagli arbitri perché si fa, come dire, più in fretta a ricordare gli errori, i torti, i subiti che non magari l'episodio a tuo favore, però, ripeto, è un motivo di riflessione, uno spunto di riflessione è quello che ha detto il nostro amico da casa, anche perché comunque, diciamo, la carriera arbitraria di Paparesta si è interrotta anche bruscamente, non è il migliore, non è stato un finale degno di una carriera importante, insomma, non è stato un gran finale, quindi questo potrebbe, però, al di là di questo, io credo che gli arbitri debbano, ripeto ancora una volta, debbano non essere condizionati da chissà che cosa, insomma, gli arbitri devono fare il loro, punto. Sì, anche perché io, valutando le partite ogni settimana, domenica o mercoledì, quando devo fare una valutazione sull'arbitro, sia io che ovviamente il collega che sta con me, per noi diventa sempre molto difficile dare un giudizio immediato, dobbiamo rivederlo magari più volte, certo è che, a parte l'errore tecnico, io valuto sempre nella gestione complessiva della partita, perché a volte l'arbitro magari la può gestire in un certo modo e quindi lì magari gli errori più grossi sono proprio nella gestione completa della partita. Per quanto riguarda, per esempio, insomma, anche con Latina sì, in effetti il rigore su Maniero c'era, dopo tre minuti può cambiare le cose, però poi, diciamo così, il Bari per un tempo veramente ha fatto vedere che poteva, che può arrivare al gol sempre con molta facilità, però insomma, quindi da quel lato lì può essere anche riduttivo il discorso del rigore. Per quanto riguarda la campagna di gennaio è sempre difficile, perché a gennaio è un mercato di riparazione, è normale poi che la valutazione di Camplone che aveva dato oppure magari gli uomini che voleva Camplone, a volte possono arrivare, a volte bisogna dire che anche uomini, per esempio, anche un regista, magari pensavo anche dinamico, che poteva venire, non è venuto, quindi lui su Romizzi, su Donato e su Gensogro non ci crede molto e quindi ecco, torno al discorso della scelta di Valiani, però ecco, bisogna anche considerare che Romizzi e Gensogro sono, per caratteristiche diverse, sono più specifici in quel ruolo. Intanto, ora mancherà per qualche partita anche Maniero che si è fatto male e effettivamente, non essendoci più Petropoulos, forse manca anche l'alternativa vera a Maniero, Pusca secondo te è una prima punta, un centravanti puro oppure è un'altra seconda punta? Per me è una prima punta, anche se poi nell'Inter, mi ricordo lo commentai proprio all'inizio di Mancini l'anno scorso, ha fatto anche un po' l'esterno, però credo che come caratteristiche ce l'ha, è normale che gioca poco e deve trovare anche una certa forza sua, perché sai, giocare a Bari è sempre, sai, la maglia del Bari pesa, è ovvio che però era il suo sito, diciamo così, dopo Maniero viene lui, quindi deve essere pronto, a meno che non possa cambiare anche qualcosa, possa magari anche riproporre un certo Sansone che sinceramente parlando un po' con tutti anche con le dette lavori, un giocatore come Sansone potrebbe giocare in Serie A in varie squadre, questo è un dilemma, però Sansone, Camplone l'ha anche motivato, c'è stato quello sconto prima col Vicenza, l'ha anche, diciamo così, come dire, spinto a dare qualcosa di più, perché io sono d'accordo su quello che ha detto, il nome non ci si ricorda mai, tu devi dare sempre al momento, quindi Sansone di Bologna di prima, tu sei nel Bari adesso, quindi devi dare, far vedere soprattutto agli altri, ai giocatori magari meno tecnicamente. C'è un'altra telefonata, pronto? Ciao a tutti, sono Pasquale da Rimini, un saluto a tutti i tifosi del Bari e quindi anche ad Antonio Di Gennaro. Ciao, buongiorno. Sono due considerazioni veloci, una in positivo e una in negativo, l'aspetto positivo che ho visto in queste ultime gare, al di là dell'approccio nuovo della squadra, che chiaramente richiede un po' di tempo, infatti con la prima chiamata sono in disaccordo, noi con il vecchio allenatore avremmo preso meno punti, perché con il precedente allenatore abbiamo fatto più punti di quelli che avremmo meritato, vedendo le parenti, però questo non c'è la riprova e quindi lo chiudiamo come parentesi, però c'è, io riesco a vedere le pari del Bari e finalmente mi rientusiasmo, dico è vero che conta il risultato, però è già un bel vedere, a parte il secondo tempo con il Latina e sto apprezzando molto il fatto che finalmente ci sono anche gli inserimenti dei centrocampisti e uno di questi in particolar modo è l'acquisto migliore secondo me del Bari, perché l'altro aspetto negativo è il mercato, ma il mercato non solo negativo per l'arrivo di giocatori inutili come Minala, come Lazzari, perché non è essere la gente in altri ruoli e non sono arrivati in quei ruoli, ma soprattutto perché non siamo riusciti a cedere ai giocatori che erano fuori dal progetto, fuori dal progetto c'è anche quel Sansone che secondo me non è da Serie A, perché io l'ho visto giocare molte volte l'anno scorso nelle gare del Bologna, lui è un giocatore che decide con delle giocate individuali, non è un uomo squadra, quindi questo è il negativo e poi soprattutto voglio dire, noi dovremmo probabilmente cambiare anche un po' modulo perché quei giocatori lì messi in quei ruoli, appunto De Luca, esterno, sinistro, noi bisogna giocare con due punte, non possiamo giocare con la difesa 3 per i giocatori che abbiamo, però dovremmo giocare con un 4-3-1-2, con le due punte vicine perché Sansone a Bologna l'anno scorso ha fatto delle grandi giocate quando giocava di fianco a Caccia con degli scambi stretti che a Bari non si vedono quasi mai. Pasquale grazie per il tuo intervento anche abbastanza articolato, peraltro ieri comunque Camplone ha voluto provare le due punte uno accanto all'altro, quindi può essere che sia una soluzione, poi chiediamo anche ad Antonio Di Gennaro ma dopo la pausa pubblicitaria quale potrebbe essere il modo di giocare del Bari, Camplone ha detto ieri, o meglio ha fatto intendere ieri, o qualcuno ha scritto meglio perché nessuno del Bari parla, che è difficile che ci possa essere un cambiamento tattico già nella gara di Lanciano, però ne discutiamo tra poco e cerchiamo di capire quale può essere un'eventuale coppia col giusta in assenza di maniera. Eccoci insieme, ultimo segmento del Biancherosso Temisport con Antonio Di Gennaro, Puskas, dovremmo avere le immagini dei gol che ha fatto altrove perché a Bari non abbiamo avuto ancora il piacere vedere un gol di Puskas, però ti chiedo, è una costante questa, scorso anno e quest'anno, i ragazzi che vengono a giocare nel Bari, che pure vengono considerati il meglio che c'è a livello di settore giovanile, non funzionano. A Crotone va Ricci, facciamo un esempio, il giocatore è quotato di settore giovanile e va come una scheggia, titolare, inamovibile, a Bari è successo, paradossalmente nel momento peggiore che i giovani abbiano fatto la differenza, Sabelli era settore giovanile della Roma, adesso non ricordo tutti gli altri, però allo stesso Polenta aveva fatto poca esperienza nel Genoa, ha giocato a Bari una stagione da titolare. Sono venuti qua però come riserve, sono arrivati come riserve, in Crotone sono andati come titolari, non so se questo può essere una scusante in questo, però ho detto prima, Bari non è Crotone, Bari è una piazza importante dove ci sono, non dico delle pressioni ovviamente anche dovute al fatto che il Bari deve andare in Serie A, per vari motivi, un po' perché questa categoria non compete a una città, una piazza, una tifoseria e quant'altro e poi anche per un discorso prettamente economico, se il Bari non dovesse andare in Serie A, lo sappiamo tutti, gli investimenti che sono stati fatti sono quelli orientati verso una categoria superiore, quindi magari questi giocatori, parte Camarà credo che è stato fermo per quattro mesi, ora è andato a Modena ma gioca e non gioca, Don Core è un ragazzo che ha delle doti fisiche, deve essere migliorato dal punto di vista tattico e anche un po' tecnico, Puskas ha tutte le qualità possibili, io ripeto, nel Panama Nostra andiamo in giro ed era quotato a livello proprio di settore giovanile, ne parlava anche Beppe Bergumi che lui segue molto bene l'Inter, diceva che a livello primavera e quant'altro era uno dei più forti, freddo, sottoporta, forte fisicamente, bravo nei movimenti, qua ovviamente gioco una partita ogni cinque e qui se magari non riesce a rendere bene poi magari ci possono essere anche dal punto di vista suo, personale, così di carattere mentalmente, non riesci più a esprimere. Ora però è una buona opportunità, sempre che il campone... Spero che si sia preparato bene perché poi bisogna ovviamente essere a posto fisicamente ma poi mentalmente, cioè devi dare tutto, devi fare due fasi, se rimarrà con questo modulo 4-3-3 prima si parlava, io sono d'accordo perché 4-3-1-2 può essere proprio funzionale soprattutto per Rosina perché il giocatore che ora ho letto è preso un po' di mira che non sta rendendo, ma Rosina è un trequartista, da esterno poi si accenta, deve correre di più, cioè sfruttare per le caratteristiche che ovviamente lui ha Rosina, se poi vuoi continuare 4-3-3 è normale qualche adattato c'è perché gli esterni non ci sono come ho detto prima e poi anche dal punto di vista per esempio sui terzini, quando fai il 4-3-3 ci deve essere anche una spinta per quanto riguarda i terzini oppure anche lo schieramento a rombo con Rosina trequartisti, sono i terzini che devono andare sulle fasce, quindi deve esserci un equilibrio a metà campo, per questo, è una mia opinione, Romizzi è quello che secondo me mi darebbe più equilibrio nell'andare a parare dove magari un terzino sia a destra che a sinistra possa spingere, quindi credo che in questo Camplone è sempre stato un po' attento a certe valutazioni proprio per imporre il gioco e quando imporre il gioco però devi avere anche degli equilibri per quanto riguarda… Prendiamo un'altra telefonata 080 501 9998 e poi hai detto una parola magica, Romizzi, perché è davvero un mistero come un giocatore che era stato tra i protagonisti, ma anche l'anno della rimonta, anche l'anno precedente Romizzi l'ha fatto bene, ora non si ha più l'altezza di giocare neanche un minuto, perché questa è la situazione alla quale è andato incontro Romizzi. No, nel senso Enzo, perché se gioca Romizzi per un discorso di giocatore di equilibrio, Gensoglu è il giocatore più di ordine, più geometrico, infatti quando si fece male Gensoglu tutti a pensare come si farà a giocare senza Gensoglu, perché aveva fatto bene, invece si può giocare lo stesso, quindi Romizzi è più di copertura, imposta anche, recupera molti palloni, Gensoglu era più che dava più geometria e la squadra in effetti, mi ricordo la partita di Cesena è stata perfetta e lui ha dato il suo contributo. Un'altra telefonata, pronto? Pronto, sono Carlo. Ciao Carlo, ciao. Ciao, ti chiedo giusto un minuto proprio perché mi avete anticipato per quanto riguarda il problema del Bari, per quanto riguarda il problema del Bari secondo me è proprio il centrocampo, tutte le partite che io ho visto qui a Bari, sia il latino che il crotone che tutte le altre squadre hanno avuto facilità nel passare il nostro centrocampo, io Camplone ad oggi lo giudico, pare non gioca bene con Camplone, infatti anche con il crotone ha giocato solo i primi 20 minuti del secondo tempo bene, quindi il gioco di Camplone è uguale al gioco di Nicola, anzi Nicola faceva più punti, poi mettere da parte un giocatore come Ronizzi, come diceva il grande Di Gennaro, o mettere da parte al primo semi-errore perché non è comunque un errore totalmente, guarda, rompere lo spogliatoio facendolo fuori perché non trovava altro, secondo me io non sono d'accordo, è giusto dare la chance a Micai, però ci sono anche delle gerarchie, questo è, diciamo io vedo Camplone un po' come un sergente di ferro, il primo errore Romizzi va fuori, il primo errore Guarna va fuori, oppure non tiene in consenso, il Sansone cerca di motivarlo, invece così non gli sta dando neanche un minuto diciamo. Grazie, grazie caro per il tuo intervento, va anche detto che Guarna è andato fuori anche perché era squalificato e a mio avviso con molta obiettività è difficile poi non riconfermare un portiere che ad Avellino ha parato un rigore e ha salvato il Bari in 3-4 occasioni, a mio avviso è vero che esistono delle gerarchie, però è anche vero che deve esistere un criterio di meritocrazia per il quale il portiere che fa bene è giusto che venga riconfermato. Anche perché il portiere è un ruolo abbastanza delicato, molto difficile, però Mikaj si è fatto trovare non pronto di più i primi indicevi di Puskas, quindi se dovesse giocare deve essere, a parte deve essere sempre pronto il giocatore, anche quando entra a 20 minuti o non so, con la tira è entrato forse per poco tempo, per troppo poco tempo, però uno deve essere sempre alla testa della situazione, io non volevo dire che deve giocare per forza Romizzi, però secondo me se ovviamente non è stato venduto a gennaio, se è nella rosa, io credo che debba essere anche sfruttato, perché è un giocatore secondo me che può dare ancora, siccome potrebbe essere Gensogro, Donati anche lui è stato messo nel senso di un ruolo che secondo me è fondamentale per gli equilibri che dicevamo prima, anche perché la difesa, puoi fare anche una difesa a 3, però hai solo 3 difensori veri ora, perché continui, quindi diventa un po' problematico, quindi avendo una difesa a 4 con dei terzini un po' adattati, ecco perché Romizzi ti dà quella forza, ieri come ha giocato il Lebaio, ora si parla di grandi squadre, Vidal stava davanti alla difesa ma faceva quasi diciamo così vicino agli altri due difensori, quindi Romizzi in questo magari perde in lancio oppure in verticalizzazioni, però ci sono gli altri, c'è giocatori come Desi che è bravo tecnicamente, lo stesso Valiani, anche lo stesso Defendi, cioè a girare io credo che sia un centrocampo equilibrato. Ci sarà una sorta di derby a Lanciano sabato, perché il tecnico di Lanciano è un salentino cresciuto nelle Lecce che ha avuto questa opportunità in età abbastanza avanzata, adesso non mi ricordo quanti anni abbia Maragliulo, però Maragliulo non è certo un ragazzino o un giovane allenatore, lo vedrete anche dall'aspetto, comunque sta facendo abbastanza bene perché Lanciano non gioca male, gioca tutt'altro che male ed è entrato in una situazione difficile, ricordiamo che c'era d'Aversa l'allenatore, però a un certo punto il Lanciano sembrava... Anche quasi il fallimento, anche il fallimento societario. Infatti, infatti. Andato via d'Aversa il Lanciano sta trovando, pur senza alcuni giocatori importanti, a gennaio è andato via Mamarella che era un po' il simbolo di Lanciano, però ha trovato evidentemente le motivazioni per far bene, è una squadra da prendere con le pinze. Sentiamo cosa ha detto Maragliulo ieri in conferenza stampa a Lanciano. Che Bari mi aspetto, non è questione di aspettarsi una squadra diversa da come si pensa, sappiamo benissimo che anche il Bari è una squadra di grandissima qualità, una squadra importantissima, però non possiamo ripetere sempre le stesse cose, noi dobbiamo pensare solo a noi stessi e cercare di allenarci al mille per mille e poi di andare a campo per cercare di vincere la partita. Detto questo poi ci sono gli avversari che vogliono fare lo stesso e non sarà facile, però il nostro obiettivo unico deve essere solo ed esclusivamente quello. Non è una questione di fare i presuntuosi, però se non si crede a questo è meglio non scendere neanche in campo. Mi dispiace ripetermi, però al di là chiaramente di guardare la squadra avversaria sotto l'aspetto puramente tattico o tecnico. Io in questo momento sinceramente mi preme pensare molto di più alla mia squadra. Quando la mia squadra scende in campo e scenderà determinata e convinta di poter ottenere il risultato, le cose degli avversari chiaramente poi mi interessano fino a un certo punto. E allora? Abbastanza determinato questo concetto. Beh, questo è un messaggio alla mia squadra perché hai detto bene tu, dopo un periodo veramente difficile, non so se l'hanno risolto e quindi la squadra è viva, ha vinto a Vicenza, è sempre un campo difficile e anche abbastanza nettamente 2-0. Di solito è Cristian Siciliani che mi fa la domanda, cosa vuoi dedicare gli ultimi 60 secondi della trasmissione? Siamo già oltre forse il tempo che ci è concesso, però insomma muoio dalla voglia di saperla tua sul caso Totti. In un minuto vi dici il tuo punto di vista. Ma secondo me ho provato un po' di tristezza perché è un grande campione, forse il più forte giocatore degli ultimi 30 anni in Italia secondo me. Credo che siano delle cose tra Spalletti e Totti precedenti, credo che la proprietà voleva che lui capisse che per loro non è più un giocatore di calcio, invece lui voleva che glielo dicessero e queste cose ci è stato un po' un misandestendi tra di loro. E credo che lui ovviamente ci sia sempre messo la faccia, però poi c'è l'aspetto anche, credo tra di loro, non si sono lasciati bene sei anni fa, qualche diatribe ancora c'è, però poi si arriva all'aspetto umano dove prima o poi bisogna dire addio a questa attività e lui forse non lo vuole ancora fare, vorrebbe un contratto di un anno, ma sinceramente visto anche quest'anno quando è entrato dopo anche due infortuni muscolari diventa difficile per un allenatore che per certi versi in due mesi ha rimesso a posto la squadra. Grazie ad Antonio Di Gennaro, grazie anche a voi, a domani con Biancherosso TV Sport, ciao!